Il Pescara affronta il Villa 2015, il Pineto, il Notaresco. Ciro Venerato. Aspetta solo una telefonata dal suo agente Fabrizio Ferrari, il Felsinio Tomasini, pronto di indossare la maglia bianca-azzurra del Pescara. Ultimi dettagli relativi al trasferimento, snervanti ma decisivi per il tesseramento. Il Pisa intende incamerare il 50% della futura rivendita e forse, chissà, risparmiare le mensilità di giugno e luglio. Attesa anche per l'addio di Colai, il Cesena ha già l'assenso dell'italo-albanese. Ora deve trovarlo con il presidente Sebastiani. Solo dopo si penserà al patovano Russini, più dura, strappare il sì, del bolognese Cangiano, forse attratto da sirene cadetti. Pescara in campo domani alle 18 allo stadio Mastrangelo di Montesilvano. Affronterà il Villa 2015, team del campionato di promozione abruzzese. Ultimo test prima del debutto in Coppa Italia, previsto domenica prossima. In campo anche il Pineto domani pomeriggio. l'11 di agosto.